La domanda che dà il titolo al video Dottore ho avuto due attacchi di appendicite che devo toglierla? La rivolge il paziente o la paziente che ha avuto due appendicopatie di tipo acuto ma che sono state risolte in maniera per così dire conservativa e spiegheremo più avanti che cosa vuol dire ma certamente non è stato sottoposto ad intervento chirurgico. L'attacco è un termine che riguarda il lessico pazientese che deve essere tradotto dal medico perché sa un po' di indiani e fortapache un attacco a fortapache si riferisce invece ovviamente a una patologia acuta che in questo caso ha riguardato l'appendice. Che cos'è l'appendice cecale? L'appendice cecale o appendice vermiforme è un brevissimo tratto di intestino di lunghezza che può variare da 2-3 cm fino a 10-11 cm che è posto praticamente subito dopo la valvola iliocecale e quindi il punto di passaggio tra l'intestino tenue e l'intestino grasso l'ultima parte dell'intestino tenue, l'ilio e la prima parte dell'intestino grasso, il colon è proprio una vera e propria appendice del primo tratto del colon ovvero sia del cieco. L'appendice si proietta sulla fossa iliaca destra per comprendere bene quali sono e come sono denominate le regioni dell'addome rimando al video sulla visita medica dell'addome che è già inserito in questo canale. Però purtroppo sono molto frequenti le malposizioni di questo piccolo viscere tanto che spesso è posto in posizione retrocecale quindi al di dietro del cieco anziché tendere ad andare verso il basso oppure tende a spostarsi nella regione mediana sempre inferiore dell'addome. Dal punto di vista filogenetico la filogenesi è quella scienza che cerca di vedere qual è stata l'evoluzione dai tempi antichissimi fino ad oggi delle varie specie che vivono su questa terra per quanto riguarda la specie umana e la filogenesi dice che i nostri antichissimi progenitori avevano un'appendice indubbiamente più lunga di quella che adesso noi abbiamo con delle caratteristiche funzionali simili a quella del collo quindi capacità di secrezione e di assorbimento conservate. Non è più così perché a che serve la nostra appendice? La domanda è ovvia. L'appendice è al suo interno dotata di una mucosa ricca di cellule linfoidi quindi effettivamente ha un'azione di potenziare il sistema immunitario del nostro organismo quindi di elaborare e processare sostanze antigeniche ed elaborare una valida risposta immunitaria. Ci sono nel nostro organismo altre aree, altre sedi in cui esiste un tessuto linfoide all'esterno del sistema circolatorio linfatio quindi dei linfonodi veri e propri e queste sono le tonsille, l'anello faringeo del Baldayer e l'appendice è una di queste strutture linfoidi che servono proprio a integrare il nostro sistema immunitario. Cosa avviene quando c'è un'appendicite acuta un'infiammazione acuta dell'appendice? L'appendice ha un canale strettissimo e si può ostruire con facilità e quindi al suo interno viene a depositarsi del materiale settico quindi questo può infettarsi facilmente quindi l'appendice può divenire essa stessa un vero e proprio ascesso e le pareti possono andare in gangrena quindi fissurarsi e quindi si formano degli ascessi in sede peri appendicolare oppure le pareti possono francamente rompersi e quindi si avrà il riversarsi di materiale settico molto inquinante all'interno della cavità peritoneale causando una vera e propria peritonite. Questi fenomeni di appendicite sono più frequenti tra i 13 e i 30 anni d'età individualmente sia nel sesso maschile che nel sesso femminile quindi soggetti molto giovani ma non è raro trovarlo anche in soggetti anziani o in bambini molto molto piccoli e io dico sempre ai genitori di fare molto attenzione a bambini piccoli che abbiano disturbi vaghi per esempio si lamentino delle mutandine l'elastico delle mutandine troppo strette il pantalone che sembra stringere eccetera portateli dal pediatra perché è sempre bene far dare un'occhiata alla pancina di questi bambini dal pediatra. Il medico dovrà effettivamente valutare bene la sintomatologia accusata da un paziente che va incontro ad un'appendicite acuta. Di solito la sintomatologia da libro diciamo la sintomatologia classica è un dolore in fossiliaca destra che tende ad irradiarsi verso il versante interno della coscia però ripeto siccome ci sono molte malposizioni dell'appendice questo genera anche una sintomatologia quanto mai varia quindi ci possono essere dei dolori che insorgono posteriormente verso la regione lombare e dei dolori che addirittura possono insorgere in regione del fianco o dell'ipocondrio destro o ancora dei dolori che insorgono in ipogastrio. Quindi sintomatologia quanto mai varia si associa spesso una sintomatologia dolorosa più vaga in regione pigastrica si associa facilmente nausea e vomito e anche la presenza di febbre ma non elevata in presenza se non ci sono delle complicanze diciamo fino a 38 gradi è ovvio che se poi c'è un'evoluzione verso una forma sessualizzata o verso una peritonite il quadro sia clinico che sintomatologico cambia completamente. Il medico a questo punto effettua una accurata visita medica un esame obiettivo per i particolari rimando di nuovo al video sulla visita medica dell'addome già inserito nel nostro canale e farà una palpazione accurata della fossiliega destra ma comunque certamente di tutto l'addome sempre ricordando le malposizioni eseguirà delle particolari manovre la ricerca della dolorabilità in un punto particolare che si chiama punto di McBurney effettuerà la manovra di Bloomberg che come vedrete nel video è spesso presente se c'è un iniziale interessamento peritoneale dopodiché cercherà aiuto per la diagnosi nell'esecuzione di esami di laboratorio l'aumento dei globuli bianchi ed in particolare della serie neutrofila quindi una leucocitosi neutrofila è indice di una flogosi in atto e poi effettuerà un'ecografia questo soprattutto per avere aiuto anche nella diagnostica differenziale perché se la sintomatologia come ho detto è prevalentemente destra qualche volta c'è effettivamente da fare una curata diagnosi differenziale nei confronti per esempio di una colica renulaterale di destra o nelle donne se si è di fronte ad una patologia di tipo varico qualche volta anche una forte pubbalgia può essere confusa con un dolore di carattere appendicolare comunque l'ecografia è una sana importante perché potrà evidenziare magari un appendice rigonfia il pinatipus oppure la presenza di ascessi in sede peri-appendicolare oppure la presenza di libido nello scavo del Douglas che è lo sfondato peritoneale inferiore a questo punto devo ricordare di non trascurare mai ricordare ai medici in formazione di non trascurare mai l'esplorazione rettale o vaginale nella donna perché questo consentirà di stimolare col proprio dito proprio la dolorabilità a livello dello scavo del Douglas se si è depositato del liquido esito della flocosi appendicolare e il medico avrà proprio la sensazione come di palpare una sorta di palloncino semiconfio di liquido ecco questi sono segni di la presenza di una infiammazione appendicolare che sta interessando la serosa peritoneale a questo punto se la diagnosi è chiara è ovvio che il chirurgo consiglierà l'intervento per l'asportazione dell'appendice che si chiama appendicectomia questo intervento è un intervento relativamente semplice anche fatto in condizioni d'urgenza che viene fatto attraverso delle incisioni limitate però attenzione il chirurgo deve essere sempre pronto a ingrandire l'incisione perché una malposizione dell'appendice la presenza di una complicanza chiaramente fa in modo che l'incisione debba essere allargata per avere la maggiore luce possibile per risolvere completamente il problema in centri attrezzati questo tipo di intervento anche d'urgenza può essere fatto attraverso interventi in videolaparoscopia alle volte però la diagnosi non è chiarissima ci sono delle situazioni sintomatiche un po' sfumate l'ecografia dice e non dice i bianchi si alzano e non si alzano ecco in questi casi che farà un chirurgo? alcuni chirurghi decidono di procedere lo stesso all'intervento chirurgico durante il quale magari asportano lo stesso l'appendice fanno quindi eseguono un'appendicectomia anche se poi magari all'esame istologico che deve sempre essere fatto in un'appendice asportata magari appunto l'esame istologico rivelerà che si tratta di quello che si dice in gergo un appendice bianca ovvero sia non c'è una vera e propria infiammazione è stato fatto una sorta di intervento in prevenzione perché chiaramente il chirurgo in questione in questo caso siccome c'erano alcuni segni si è sentito giustificato ad eseguire l'appendicectomia nel tentativo di prevenire pericolose complicanze l'intervento di fatto è molto semplice io non mi sento di ridicare questi chirurghi è capitato anche a me e alzi la mano il chirurgo che non ha mai operato un'appendice cosiddetta bianca certo in era videolaporoscopica in centri attrezzati molti chirurghi in questi casi dubbi può venire l'idea come si dice in gergo di inserire un'ottica e dare un'occhiata ci sono comunque dei casi in cui l'equip medica decide si dice in gergo di freddare la situazione di appendicite acuta che cosa vuol dire? vuol dire somministrare una robusta terapia antibiotica e fare regredire il processo soltanto con la terapia medica è ovvio questo può avvenire una prima volta forse anche una seconda volta però devo dire la verità e ritornando alla domanda dottore ho avuto due attacchi di appendicite che devo toglierla la risposta che io direi è sì la tolga nel periodo in cui sicuramente non c'è una situazione di flogos in atto perché l'intervento può essere fatto a questo punto non in urgenza ma in elezione scegliendo il periodo in cui farlo e scegliendo anche le modalità più idonee e ricordo che in questo caso chiaramente è elettivo poter eseguire l'intervento mediante chirurgia videolaparoscopica grazie